Vere e proprie temperature polari si sono registrate la scorsa notte nella Siracosentina, infatti dopo la neve caduta per tutta la giornata di ieri, sulle vette più alte, Monte Curcio e Monte Bottedonato, la colonnina del termometro ha fatto segnare dai meno 14 ai meno 18 gradi, mentre nelle località turistiche di Camigliatello Silano e Lorica ha raggiunto i meno 10-12 gradi. Un'ondata di freddo intenso però che non ha fermato gli amanti degli sport invernari e tanti turisti presenti, specie il Camigliatello Silano, considerato il fatto che si scia e che si vogliono godere questi ultimi giorni di vacanze natalizie, in quanto anche per questa notte sono previste temperature bassissime. E sotto lo zero sempre nella scorsa notte la colonnina di Mercurio è scesa anche a Cosenza e rende toccando i meno 4 gradi. Situazione meteo che si dovrebbe attenuare nella giornata di domani, mentre una nuova perturbazione è prevista per la prossima settimana, anche se le temperature dovrebbero salire di almeno 4 o 5 gradi.